Anche Romina Power ha dedicato su Instagram un pensiero all'amico scomparso. Voglio ricordare il maestro detto Mariano, con questa foto spiritosa scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggerì due ragazzi. Perché non vi sposate? Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi. È stato testimone alle nostre nozze e ha girato le uniche riprese dell'evento con la sua cinepresa Super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore. Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto Mariano spiega a Albano. Si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita. Albano era molto legato all'autore e arrangiatore del clan di Adriano Celentano e poi di molti brani di Mina e Battisti, morto a 82 anni a Milano a causa del coronavirus. L'amicizia con Albano risaliva al 1964. Sarebbe stato proprio detto Mariano a consigliare ad Albano di sposare Romina Power, diventando loro testimone di nozze. Albano, lutto per il coronavirus, con le lacrime e l'annuncio doloroso. Si è beccato il Covid-19 ed è morto. È un grande dolore. Ho pianto. L'artista di Cellino San Marco ha perso una persona cara a causa del virus e ha parlato del suo dolore in diretta durante la trasmissione di Rai Radio 2 i Lunatici.